ciao ragazzi un saluto dal tarfo e benvenuti in questo diciannovesimo episodio allora abbiamo preso il caracotopicchi e ovviamente abbiamo rimosso il rancore ottenendo la possibilità di fare la confederazione col caranagrud e rapporti diplomatici con i ringellani abbiamo fatto anche l'incarico perfetto ossa di litz scudo stregato buon perfetto ok allora possiamo fare la confederazione però con calma allora il clan anglo di questo momento è in guerra con gran draft karak che è carac in questi questi minchia pirati ok aspettiamo al momento dobbiamo sistemarsi casini che abbiamo noi a casa qua dobbiamo sistemarsi quei casini lì e bomba flash ok non possiamo allora controlliamo un attimo le province rupe nera in diminuzione e in aumento perfetto carazza karak in diminuzione il caos in diminuzione in aumento la corruzione vampirica in aumento la scaven e l'incontaminato in aumento perché devo tenermi i soldi per pompare questa a livello 4 per cui il prossimo turno aspettiamo vediamo se io posso avere altri commerci sarò i pirati di ma non mi pare il caso visto l'atteggiamento nei nostri confronti non posso costruire al momento nulla l'unica cosa che potrei fare è tirare fuori l'esercito da qua e portarmelo giù al sud in modo a darmi una mano a conquistare velocemente i territori del sud ok passiamo il turno sappiamo che possiamo fare la confederazione con il clan angrood però dobbiamo aspettare che il clan angrood si risistemi nel senso che deve riprendersi la provincia e deve terminare le guerre so che ha due eserciti per cui avremo anche due eserciti da mantenere abbiamo un bel po di roba da fare per cui è tosto non mi conviene fare la confederazione subito devo aspettare che si sistemi un attimo a livello di confini ed altro però possiamo avere la confederazione anche perché i pirati di sartossa sono belli potenti li devo aspettare che i principati di confine li elimino li elimino il clan angrood in teoria tutti i due eserciti li ha riportati di la cazzo crooked moon hanno una wag attiva ecco questo potrebbe essere un grosso problema molto grosso molto problema molto grosso molto problema cazzo i principati di confine sono lì e ovviamente non gli vanno addosso perché è solo con un eroe e figurati non possono fare un cazzo non ha perso una provincia praticamente il clan angrood è sulla sponda ovest del mare questi si muovono di lì i cretini non li ho visti muoversi ok per cui tiriamo fuori l'esercito di grombindan lo mandiamo a nord e l'esercito che mi sta venendo da lì lo mandiamo dentro a caracotto picchi dove cazzo l'hanno fatta sta wog moledetta ok ok 4.000 molte d'oro il giuramento dello sventrator tesoreria meno cinquecento ok allora tu ti muovi in marcia portata dove mi arrivi qua mi va più che bene caracotto picchi aveva rifatto la guarnigione si ok tu lo so che non ti sei riformato lo so che mi detesterai ma ti muovi anzi ti muovi dentro rupe nera tu ti muovi qua 9518 tu quasi immediatamente a livello perchè che ho fatto così tanti soldi allora vediamo qua com'è ok bevitrice del sangue la volta che ho avuto il corpo la volta che mi metto in pressione vampirica esercito ok i cavalieri del sangue saranno la rottura di valle prima che te l'arriai bargeist pure zombie allora sicuramente mi faranno fuori le colline di varenka ma non è un problema, le posso tranquillamente perdere e me le riconquisto dopo no tu a livello 3 ok questo me lo muovo qua ok controlliamo il sud allora Sartosa è qua questi sono qua, questo ancora di questo e questo ancora di Sartosa i cretini qua non ci sono per cui facciamo un tempo a spostare l'esercito qua in caso questo lo faccio uscire lo rimando su a nord dentro al rupe nere questo lo mando dentro caracco 8 picchi ok passiamo il turno oppure cosa migliore ancora da fare potrebbe essere far uscire mandare in movimento l'esercito quello a sud del lord lasciare Thorgrim con tutta quanta la guarnigione e rimandarmi su soltanto il lord fazione incontrata Crooked Moon mutinos ok cretini mutinati di luna gobba incontrato praticamente quell'altro si è spostato di lì ok è stato andato rompendo le balle agli elfi spero che gli elfi lo facciano fuori pirati di Sartosa vanno in marcia aranessa espresso di mare e stanno andando non si sa dove ok ok gli imperoli crana angrood non so minimamente cosa stia facendo crana crooked moon tribe non li ho visti muoversi neanche silvania ok adesso vediamo cosa fa i vampiri sicuramente i vampiri mi attaccano l'insediamento ok ci sta allora potrei combatterlo solo per infliggergli molti più danni non farei un cazzo però lasciamolo in automatico beh mi hanno fatto un bel po' di danni comunque ok me l'hanno solo saccheggiata sono loro sono comunque in logoramento si muovono e si mettono lì ok adesso sono in modalità incursione ordine pubblico informazione con le stagioni trochi vingore in battaglia senza fiato informazione personalità con le fazioni ok malagarlo oscuro presagio questo dovevo farlo fuori perché mi dava degli ottimi bonus ma invece niente di mortacciaccia mia come lo sono lasciato per fuggire no c'ho da bere dai c'ho da bere cosa vuole il whistle hanno un patto di non aggressione te lo do volentieri per ora principati di confine stanno reclutando si stanno muovendo giù a sud ok devo far fuori lo stronzo di un vampiro maledetto che sapevo che mi veniva addosso maledizione non pensavo adesso dopo che mi sono conquistato toccherà cotto picchi però ancora ma noto ok ci sta ah si è assolutamente due conquiste istilano terrore nel cuore dei nemici potenti signori va bene va bene in schiazza 1015 si muovete mangiucciato sto brutto sto ok potete vedere il gilio quindi la crescita ok allora tu ti muovi qua tu ti muovi qua prega incazzo lo sconfinamento sono orchi li molli su tutto l'esercito e per ora te ne stai fermo qua che così Thorgrim ha l'esercito full ok ruppe nera poi gli porteremo questo livello 3 devo far fuori il suo sto merda e queste saranno delle rotture di questi no ma queste quattro unità qua saranno una rottura di coglioni di primissima catevaria colline di varenca non ripariamo cos'è questo ah ok controlliamo allora i cretini i cretini dei lunagobba non li vedo al momento questi non li vedo questi non li vedo vediamo qua se hanno migliorato qualcosa allora tilea si è ripresa lucini perfetto per cui probabilmente i piedi sartosa si sono mossi qua questo cazzo sartosa è proprio attaccata nasce attaccata sartosa sartosa ovviamente dei conti vampiro cazzo se consideriamo dove sta il cimitero regolone qua sartosa è qui minga a pensare che sartosa qua finiva il mondo nella campagna quella dei pirati vabbè ragazzi non ci sta aspettata che fa abbassare il turno megoioni e che sti ragazzi li butta giù questi piccato come farò avere tanti eserciti così è per fortuna che sono sedentari micchia ma io li faccio vassalli facciano incontrato la regione dei tumuli come cazzo ho fatto a incontrare la fazione dei tumuli la regione dei tumuli che è qua silvania vediamo cosa fa don carsten adesso don carsten se ne va ma non ti mollo stranzo non ti mollo ti vengo a prendere figlio di puttana tanto l'esercito giù al sud ce l'ho esercito al sud ce l'ho per cui non ho problemi potrei aspettare che il clan si riprenda la sua regione totale la sua provincia per cui che riprenda questo i principati di confine vanno a riprendersi in mir midens mi va bene aspettare che il clan si riprenda questo montevendaccio tu resti al momento lì non voglio perdere il rancore buccanieri della costa desolata è una cazzo che bella voglio vedere questa ok 1510 di Gromrill perfetto esercito vincito la battaglia contro ok Grinskin la battaglia la battaglia è un problema visto che ci siamo questi le ripercussioni ma a me se ci sono internazionale non cazzo fallimento vabbè ma intanto si è fatto un po' di livelli tu che pensi di scappare dove stai io arrivo dentro le colline di Varenka intanto figlio di puttana e poi ti vengo a prendere tu mi vai in modalità dentro rupe nera ok caracotto picchi c'è questo insediamento questo insediamento e questo insediamento ok aspettiamo vediamo ma dai è un sottomarino figa ok delle piccole delle piccole patente della guerra sono fuse in un'armata mista bucconia della costa isolata stai in guardia questi fuori legge disperati sono sempre le ricerche dei territori poco difesi da razziare ok e ripariamo la collina di Varenka ok tu arrivi fino a lì però io ti vengo a prendere a casa adesso pezzo di merda qua tesoro 3920 devi aspettare perché non c'è di asoro povero allora controlliamo qua non si sono non si vedono eserciti che all'angolo non si è ancora ripreso questo questo di questo questa regione ok perfetto e loro però in teoria io ho solo i pirati di Sartosa certo ho preso il porto ma praticamente controllando il porto non controllo un cazzo hanno cambiato anche questa modalità qua va bene allora qua è tutto chiuso Ekrund è chiusa Karako 8 picchi è in mano mia ed è in aumento l'esercito è pesante per cui riusciamo comunque a reggere anche se posso reclutare balestrieri minchia 1131 monete un barba lunga e costa come tre nani sti gran cazzi scusa eh 2000 di vita in più 30 di armature in più 5 di discipline in più sono un po' più lenti più 3 di attacco più 2 di difesa corpo a corpo più 9 di forza all'arma più 5 di bonus carica eh di poco immuni alla psicologia più 5 resistenza a me a tiro più 5 resistenza fisica più 5 difesa corpo a corpo disciplina è a terra ma non vanno a terra perché sono immuni alla psicologia punti salute maggiore del 50% ah fuori uso 6 punti salute ok si vabbè ok va bene così ragazzi passiamo il turno vediamo cosa succede vediamo veramente cosa succede si sta evolvendo la partita in una maniera che non pensavo minimamente soprattutto col fatto che posso fare la confederazione col clan angrud e in teoria avrai due eserciti col clan angrud attivi in cui potrei controllare il sud e la loro regione pirati di sartosa vediamo cosa fanno non si sono visti muoversi l'impero non si vede il clan angrud si è mosso ma non si è visto croquet moon triper non si muove nemmeno la wog silvania vediamo cosa fanno dimmi che non te ne vai troppo distante pezzo di merda ah mi chiedi la pace adesso perché ti sono li ha attaccato al culo vero? no 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 anche perché voglio il bonus tuo figlio di puttana no 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 non mi fa vedere dove va merda forse era meglio ci gli davo la pace menfall herd ok è andato ad ammazzarsi contro due eserciti più una guarnigione praticamente dovrebbe ripoppare se non mi sbaglio vissensburg principati di confine vediamo se si riprendono la capitale la sediano intanto quello se ne va non so come facciano ad avere tre eserciti hanno gli elfi parati delle cascate tre eserciti il cranangolo devo stare grutando di lì potrei aspettare mi prende secro dove così faccio la regione ok spada di cane riscattata questo mi ha fatto livello perfetto stirpe antica gliela do subito no 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 questo non mi interessa che tracciatore in aumento e diminuzione diminuzione è perfetto tu che mi sei di settimo livello ti ciucci questo e ti ciucci mastro della forza e te ne vai vediamo come rupe nera aspetta sistemare rupe nera ma più due per cento no 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 tu mi vai a caracca e adesso andiamo a prenderci lo stronzo principati di confine da cazzo stanzio? è quelli qua ciao mi diventi vassallo no ho l'accordo di transito militare ok perfetto allora non in marcia forzata ma in marcia normale i dwarfs mi hanno bisogno pranamba te vengo a prendere è una questione di principio adesso vediamo quanti soldi ci ho no devo risparmiarli per cui questo lo riportiamo qua a barack bar vediamo un po' la situazione qui ok per atti di sartosa si sono ripresi questo il cranangrudo non si è ancora ripreso questo si è preso questo cranangrudo interessante allora io devo fare soldi questo mi costerebbe mille e mi aumenta di cento gli introiti crescita più dieci facciamolo intanto che poi il turno prossimo mi arrivano duecento e tu caro mio non te ne scappi ma qua se spostarmi in modalità sotterranea mi vieni a prendere guarda a casa tua ti vengo a prendere porca puttana qua cosa c'è? ah forza del grim ok passiamo il turn in teoria caracotto picchi è ottima perchè non possono farmi non ci sono posti dove possano farmi le incursioni e con torgrim ho quasi l'esercito full e sono messo abbastanza bene adesso piano piano cerco di riconquistare un po' di introiti porca boio ragazzi pirati di sartosa non li vedo in movimento cranangrude nel suo movimento crooked moon tribe attenzione arrivano attenzione arrivano e hanno anche la woke dietro bon carstein cosa fai? mi attacchi? eh eh vai vai te ne vai di lì? e io mi sa che ti prendo da lì io mi sa che ti prendo da lì pezzo di merda anche perchè voglio il bonus per ucciderti per avverti ucciso? e poi mi metto sul caffè e poi la bislanda si muove con molta forza e poi la bislanda si muove con molta forza in pezzo di meno e non ti preoccupare che adesso te lo faccio non ti accetto l'alleanza militare voglio quel cut di rancore 15% in meno è un bonus potentissimo me non ho guardato posso fare la confederazione con l'altro clan no se vengono solo i miei che questi mi incazza come una iena però è cala per quattro turni ottimo no direi caraco topic com'è la guarnigione ok abbiamo le torri abbiamo gli arcieri abbiamo gli uomini per resistere cazzo un livello 11 con l'arma speciale vabbè dimmi che ci arrivo ci arrivo ci arrivo ci arrivo ti vengo a prendere figli di puttana no minchia se ti vengo a prendere guarda ha il costo di perdere tutte le regioni allora questo si muove qua ok perfetto si vabbè la guarnigione di carata caraca è qualcosa di proponibile un turno ordine pubblico più quattro cazzo la corruzione sta scendendo in una maniera assurda e si che sono alto corruzione del caos è in diminuzione corruzione vampirica è in aumento corruzione scava è in diminuzione devo far fuori i vampiri scusa non c'è un no non c'è un rito per la corruzione però le ricerche che sto facendo le tombe gestrali perfetto integrità aggiuntiva di 2 integrità più 1 integrità più 1 ok vabbè ragazzi io vi saluto vi do appuntamento al prossimo episodio con sicuramente l'assalto a caracotopicchi da difendere e ci sentiamo alla prossima ciao ciao ciao